Beh ma anche i correnzi non sono mica tanto aumentati perché una parte di quei fondi non vengono spesi in Africa ma vengono spesi in Italia per mantenere mezza Africa. Quindi sono tutti buoni a riempirsi la bocca di parole e di soldi che poi non vengono spesi in Niger, in Gambia, in Senegal, in Nigeria, in Bangladesh, nei paesi di partenza. Detto questo, io guardo al futuro, conto di vincere le elezioni e di spendere dei soldi veri in Africa e non in Italia, di fare anche una politica di contenimento della natalità. Ce lo diciamo, qui bisognerà collaborare col Vaticano perché fino a che il tasso di crescita demografica in Africa è quattro volte superiore a quello italiano non ce la si fa. Quindi sono ben disponibili a confrontarmi con chiunque a partire dalla Santa Sede.